Allora, buonasera, siamo qui a Salice, caro Presidente, e tutti queste carissime, e siamo qui e vogliamo dedicare una bella canzone che ora insegnerò alle signore per Gesù. Lo fa il Presidente in video. Tenetelo così, Presidente. Questa canzone fa così. Oh no, aiutatemi. Quelli che sperano, che sperano in Gesù, come le acuile, come le acuile, in voi. In volo si alzerà, come le acuile, come le acuile, in volo si alzerà, camminano e non si stancano, corrono e non si affaticano, le nuove forze avranno, le nuove forze avranno, quelli che sperano, che sperano in Gesù, tutti insieme, signora. Quelli che sperano, che sperano in Gesù, come le acuile, come le acuile, in volo si alzerà. Camminano e non si stancano, camminano e non si stancano, corrono e non si affaticano, le nuove forze avranno, le nuove forze avranno, quelli che sperano, che sperano in Gesù. Presidente, allura.